Si ritiene soddisfatto di questo importante traguardo per l'inaugurazione della nuova caserma della Guardia di Finanza ad Agropoli che avverrà il prossimo 16 gennaio, il primo cittadino Adamo Coppola. Innanzitutto siamo felici di aver terminato questo lavoro strategico importante che aggiunge sicurezza al nostro territorio e credo che questo sia l'obiettivo più importante, la richiesta più pressante dei cittadini è proprio quella di vedere la propria città più sicura e questo certamente è un presidio di sicurezza molto importante per noi. La città si è stretta intorno a questa inaugurazione, tanti contributi, tante disponibilità anche da aziende o da cittadini che vedono la caserma un po' come l'oro e questo è un bel messaggio positivo, cioè quello di stare insieme alle istituzioni che da sempre è il messaggio che noi cerchiamo di mandare alla città insieme alle istituzioni e quell'inaugurazione ha un po' questo senso e di questo noi siamo felici. Il sindaco Coppola si sofferma anche sulla protesta pacifica pro ospedale che i cittadini stanno organizzando in questi giorni contro l'operato in questi cinque anni di De Luca per potenziare la rete sanitaria ad Agropoli. Coppola invita i cittadini a mantenere la calma perché la protesta non porterà di certo a risultati ottimali per la riapertura del presidio ospedaliero. Non credo sia giusto manifestare sull'operato del governatore De Luca visto che il presidente è un ospite e non sta facendo campagna elettorale, commenta il primo cittadino. Innanzitutto premetto che è sempre possibile contestare, è sempre possibile manifestare le proprie idee e ci mancherebbe altro. Credo che forse questo non sia però il posto adatto, si tratta di un'inaugurazione dove praticamente il presidente De Luca è un ospite della Guardia di Finanza della città di Agropoli e come tale è stato invitato, non sta venendo qui a fare campagna elettorale o a presentare il suo programma o a raccontare della politica del centro-sinistra. È venuto come ospite della Guardia di Finanza e del Comune di Agropoli quindi per questo motivo un ospite non va contestato, non va trattomare, va accolto perché Agropoli è una città che accoglie i propri ospiti. Io credo che non sia questo il percorso per fare bene le cose non credo sia questo il percorso per ottenere i risultati che noi stiamo ottenendo piano piano con un lavoro quotidiano. Io dico a questi cittadini che se vogliono vedere la riapertura dell'ospedale di Agropoli non è con le contestazioni che si ottiene il risultato che noi speriamo almeno questo io non credo si otterrà. È lieto quindi di stare tranquilli, di considerare tutti coloro che verranno quel giorno come ospiti di questa città e di dimostrare che noi sappiamo dare valore all'ospitalità.